santa pasqua a tutti voi santa pasqua a noi sindaci che facciamo di tutto per garantire la vostra salute santa pasqua a chi sta in trincea a chi sta nei presidi sanitari alle forze dell'ordine che garantiscono la nostra sicurezza a chi sta nelle attività che ci garantiscono i nostri beni primari a chi trasporta i beni essenziali a chi non può stare a casa santa pasqua anche a chi sta sopra di noi i nostri governanti che ogni tanto ci fanno impazzire ma che comunque continuano a svolgere il proprio ruolo santa pasqua a coloro che non hanno potuto dare l'estremo saluto ai propri cari e non hanno potuto ricevere l'ultima carezza dai propri cari questo virus cambierà le nostre abitudini questo guerra sicuramente ci porterà a riflettere su quelli che sono i valori della fratellanza i valori non hanno potuto essere il problema davvero di si può star assieme questa guerra che ci sta segnando perché ha proprio minato le libertà fondamentali le nostre abitudini le nostre consuetudini sarà una nuova vita Siamo ormai in una fase che ci consente di poter sperare Una fase nella quale non dobbiamo sbagliare Dobbiamo continuare a stare a casa Non possiamo assolutamente abbassare la guardia Noi già stiamo lavorando per il post coronavirus Ci sarà una nuova vita per tutti Per la quale tutti quanti saremo lì pronti a questo nuovo cammino Rinnovati e soprattutto ricchi di una esperienza Che dalla riflessione porta sicuramente a una nuova azione Santa Pasqua a tutti voi Io sento sulla mia pelle la responsabilità del mio ruolo Sento nella mia coscienza tutti i messaggi I gridi di dolore ma anche di grande speranza Che ognuno di voi mi ha mandato in queste settimane Io ci sono Voi ci siete E assieme riprenderemo il cammino Santa Pasqua a voi Alle vostre famiglie Ego Ego Cari Grazie.